Ben ritrovati amici di AC Milan Inside con un nuovo video. Oggi parleremo del campionato primavera. Alle 13 la squadra di Ignazio Abate scenderà in campo al Puma House of Football contro il Sassuolo. Scontro diretto perché il Milan è secondo in classifica, il Sassuolo è quinto ma la differenza di punti sono solamente due. I rossoneri però sono distaccati dalla capolista Inter di sei punti e quindi vogliono continuare il loro percorso di risultati positivi che stanno conseguendo nell'ultime partite e quindi battere anche i nero-verdi in casa oggi alle ore 13. Notizia di ieri nel frattempo c'è stato il sorteggio per quanto riguarda gli accoppiamenti degli ottavi di finale di UEFA Youth League e i rossoneri se la vedranno contro i portoghesi del Braga. La partita si giocherà in gara secca a Milano al Puma House of Football tra il 27 e il 28 di febbraio, se è ancora da stabilire la data. Quindi si conosce l'avversario dei rossoneri per quanto riguarda il cammino europeo, è una partita secca e che la squadra di Abate non può sbagliare per proseguire il percorso fatto anche come l'anno scorso dove siamo arrivati in semifinale. Sconfitti però poi dopo dall'Aiduk Spalato per 3-0 sul campo di Nyon. Per quanto riguarda oggi il Minan può contare sempre su un super cammino in attacco, la formazione pressoché dovrebbe essere la stessa delle ultime partite, Abate confida nei suoi ragazzi per continuare la striscia positiva dei risultati. Per l'inseguimento all'Inter in classifica che dicevamo è distante 6 punti, però almeno per mantenere le prime due posizioni che nella griglia playoff vuol dire semifinale diretta. Quindi ore 13, Milan-Sassuolo, campionato primavera 1, al Puma House of Football.